Ciao! Ciao Stelline! Come state? Io ovviamente spero che vada tutto tutto molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video oggi come avrete letto dal titolo ci sarà un nuovo trigger ossia userò per rilassarvi il crystal ball diciamo che questo video nasce un po' per caso perchè l'altro giorno ero in giro a passeggiare con il mio fidanzato e fuori una cartoleria ho visto il crystal ball in vetrina e l'ho adocchiato e il mio fidanzato subito ha capito che insomma l'avrei voluto comprare è entrato dentro e me l'ha preso e già non mi ha dato neanche il tempo di dire ora entro e lo prendo ha visto che sono rimasta lì così è entrato e me l'ha preso e perchè sa che io era proprio la mia fessa di quando ero piccola e quindi appena ci ho iniziato a giocare perchè si appena l'ho preso sono andata in un parco e quindi ho iniziato a giocarci come una bambina proprio mi son detta perchè non usarlo anche per rilassare le mie stelline in un video e quindi ecco ecco insomma il motivo per il quale ve lo ritrovate qui oggi allora me l'ha preso di colore blu ma penso l'avrete già visto dalla copertina eccolo qui cioè non avete idea di quanti quanti ne ho consumati quando ero piccola mi piacevano tantissimo a parte il profumo mi ricorda l'infanzia ma mi piace proprio sicuramente sarà qualcosa di molto chimico che non va bene sniffare non vi faccio io che me lo annuso però vabbè come vedete ci sono anche in altri colori verde rosso e poi se è blu quello mi abbasta credo ora lo apriamo ovviamente ovviamente all'interno oltre al tubetto troviamo anche questo non so come chiamarlo insomma all'interno del quale sopra di esso si poggia il crystal pool e poi si soffia per fare i palloncini e lo apriamo lo sniffo ovviamente e mi prendo un bel po' e lo metto su ecco qua poi io cerco sempre di farlo aderire ben bene e poi soffia e poi soffia e poi soffia devo dire che ho sempre avuto molta difficoltà nel chiuderlo ecco questo è il palloncino di crystal ball è quasi a forma di cuore diciamo ed ero sicura che avrebbe prodotto un bel suono infatti ora vorrei togliere il cappuccio del microfono per giocarci un po' io in realtà prima di fare questo video ho provato a già farci qualche suono ovviamente prima volevo capire un po' se poteva piacere e ho deciso di farlo perchè questo suono mi piaceva tantissimo ho dei capelli orribili oggi perchè appena ho fatto il bagno e lo shampoo sono uscita e devo dire che questa sera era un po' medino fuori e quindi sono così non li ho piastrati perchè non li piastro mai men che meno in estate con questo caldo non sopporto nemmeno il fondo sono curiosa di sapere quanti di voi conoscono il crystal ball forse i più piccini che mi seguono non l'hanno mai visto cioè non ci hanno mai giocato io vi ripeto tantissimo tantissimo non sopporto nemmeno non sopporto nemmeno vediamo se si sente la mia voce oltre il crystal ball forse così cambia anche il whispering parlando attraverso il palloncino di crystal ball si dalle cuvi sento diverso un po' più basso sicuramente sono contenta che il mio fidanzato come colore abbia scelto il blu perchè credo che sia il più rilassante da vedere il rosso è eccitante come colore e il giallo non mi va a impazzire quindi va bene così è incredibile ora che ho più tempo a disposizione per registrare c'è il problema del caldo va davvero troppo caldo e per noi che registriamo video smr dobbiamo tenere tutto chiuso per non far sentire i rumori io non so le persone che registrano di giorno come fanno già pensate che sono le 2 di notte ho tutto chiuso proprio serrata dentro la mia stanza e sento molto caldo quindi non oso immaginare che registra di pomeriggio ed è un peccato perchè di pomeriggio sono quasi sempre sola ma ho provato a registrare qualcosa ma non riesco al massimo potrei fare video proprio brevi tipo 10 minuti ma so che non li gradite molto ecco ora sono tipo un buffo non riesco a guardare riesco a vedere anche le mie impronte eh la mia piazza la mia piazza il fatto appare la mia piazza la mia piazza qui è l'alto ciò ciò si sembra tipo quelle maschere pelo off o simile al suono della pellicola trasparente provo a farne un altro è un po' difficile da spremere devo dirla verità ci vuole un bel po' di forza hanno uso ovviamente troppo bello ma sono proprio fissa infatti so che durerà pochissimo questo crystal ball appena finirò il video e so insomma che lo posso consumare e mi darò la pazza gioia in questi giorni è grandissimo allora io quando soffio sicuramente non sentirete il suono perché è davvero tipo un fischio troppo acuto quindi abbasserò il volume guardate com'è grande ora lo romperò sicuramente è quotato proprio bassissimo lo sanno lo rompo lo sanno lo rompo ci sarà riuscita a non romperlo? wow vi prometto che vi cercherò un video in cui farò dei soffi sul microfono perché l'ho usato questo suono non mi ricordo in quale video e mi è piaciuto tantissimo quindi credo proprio che ci dedicherò un video a parte che non vi è piaciuto tantissimo e non so ancora come chiamerò che non conosco proprio il nome del trigger è molto bello devo dire mi piace anche a me poi con il caldo che fa direi che è un video in cui ruffio ci sta ci sta bene non è male quindi si è tutto incrispato vedete se è tutto incrispato qui si è tutto incrispato sembra un po' il suono della schiuma si è tutto incrispato come vedete non so se notate finalmente dopo mesi è ritornato lo smalto nero e soprattutto sto cercando di farmi crescere le unghie soprattutto per fare tapping o un po' di scratching o proprio per essere presentabile e devo dire che finora sembra che ci stia riuscendo abbastanza oi 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 o oi che poi tra l'altro quando l'ho comprato qualche giorno fa avevo appena messo lo smalto nero e per fare la scema mi sono messo un po' di crystal ball sulle unghie e si è tutto attaccato allo smalto quindi ho perso un'ora di manicure e ho dovuto ritogliere tutto e poi l'ho rimesso perché il crystal ball si attacca, si appiccica parecchio allo smalto notato non solo l'ho fatto che non mi si sa che inizia l'ho fatto, se non mi si sa che la scema è comunque la scema ma la scema che si torni a moire appiccicoso di cui me lo ricordavo ricordavo che ho sempre fatto un po' di difficoltà a chiuderlo ma non così veramente difficile da staccare sembra anche un po' di pommetusa ho preso le pezzettine per rimuovere questa burla dal microfono sembra davvero una maschera a pelo ovo che era tra l'altro di luci su colore ok quasi fatto ok stelline questo video esperimento finisce qui spero vi abbia comunque intrattenuto, rilassato, guardarmi giocare e vi mando un bacione grande, fatemi sapere cosa ne pensate di questo suono e se lo conoscevate già il crystal ball vi mando un bacione grande, 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 grande ci vediamo molto presto un bacione, fate i bei sogni buonanotte 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 buonanotte